Un bel riconoscimento per la nostra città che arriva dopo Capitale Italiana della Cultura 2024. Questo sarà Città Italiana dei Giovani 2022. Per il secondo anno consecutivo avevamo tentato di ottenere questo riconoscimento. Eravamo arrivati in finale l'anno scorso e quest'anno ci ha visto vincitrici. È un processo che è iniziato tra la gente e con la gente, perché abbiamo coinvolto i giovani del nostro territorio, le associazioni, le associazioni giovanili di volontariato per avere il proprio contributo su quelle che erano le azioni che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto mettere in campo in questa progettualità. Non si parlava di essere una città con discoteche, locali da ballo, non era questa la finalità del progetto. Doveva essere un progetto inclusivo e replicabile anche in altre città d'Italia. Noi abbiamo scelto nel progetto la creazione di un network, di un network che mettesse insieme diverse realtà del nostro territorio, che fosse un network permanente, una sorta di tavolo di lavoro che potessero aiutarci a mettere in campo quelle che sono una serie di azioni per i giovani. Abbiamo ipotizzato diverse iniziative, diversi convegni che si svolgeranno nel 2022 legato alla violenza di genere, legato all'inclusione sociale, al disagio giovanile, a quelli che sono stati anche gli effetti della pandemia. Avremo sicuramente un testimonial, che non voglio anticipare oggi, che è un esempio secondo me anche di forza con i giovani, una persona che è un esempio non solo per i giovani ma anche per gli adulti. Non posso anticipare il nome perché poi verrà svelato nei prossimi giorni. All'interno di questo progetto c'è anche la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, è in fase di progettazione e penso che nelle prossime settimane verrà anticipato anche questo. Quindi diciamo una serie di iniziative in cui vedranno i giovani protagonisti sia sulle tematiche sia sulla scelta dei relatori, dovranno essere anche loro bravi a coinvolgere le altre persone. Quello che era emerso negli incontri che avevamo fatto con loro è il fatto di non avere la consapevolezza di quello che accadeva in città e quindi proviamo a comunicarlo anche attraverso i loro canali. Però la cosa fondamentale era quello di ritornare a fare rete ed essere in rete con i giovani e con la comunità e anche fra di loro.